Ehi, Olaf! Giochiamo? Ho scaricato un nuovo gioco! Benvenuti nella mezza in Digital Circus! È così divertente! Unitevi a noi! No, non verremo! Troppo tardi! Oh no, Olaf! Arriva il primo ospite! Dobbiamo scappare! Non puoi scappare da me! Questo no! Troom trick! Andiamo, piccola! È ora! Abituati alla tua nuova casa! Ciao, ciao! Dove sono? Come faccio ad uscire da qui? Fatemi uscire! Voglio andare a casa, per favore! Sono bloccata qui! Aprite! Wow, è nervosa! Chi è? Tesoro, perché sei così triste? Non so come uscire da qui! Non preoccuparti, trum trick! Ora puoi andare! Ecco fatto! Non devi più preoccuparti! Ma è chiuso! Guarda, hai bisogno di una trasformazione per uscire! Oh sì, aspetta! Questo dovrebbe aiutarti! Sei pronta a cambiare? Certo, grazie! Allora iniziamo! Qui lo vedremo bene! Fantastico! Oh, che bello! Ma io non ho niente di niente! Ci penserò io! Troom trick! Questo è solo l'inizio! Troom trick! Trick! Vediamo! Oh, un coniglio! Vuoi tenerlo in mano? Che carino! Lasciamolo andare! Lasciamolo divertire! Corri piccolo, sei libero! Ok, ora dobbiamo pensare a te! Guarda, una borsa per il make-up! Wow, esattamente quello che ci serve! Vediamo che c'è dentro! Wow, questo sarà sicuramente soffrittissimo! Grazie mille! Un attimo! Ti dispiace se... Mi hai aiutato tantissimo! In fondo devi assomigliare a me! Bene! Aggiungiamo un po' di rossetto! Certo! Rendiamolo ancora più luminoso! Dai un'occhiata! Oh, mi sta bene! Fatti i cinque! Elsa, sei tu? Olaf, guarda chi c'è! Che bel trucco! Ne voglio uno anch'io! Troom trick! La mia carota è diventata un pomodoro! Figo! Vogliamo passare ai capelli? Sì! Che le dite di un giochino? È semplice! Se le colpisci riceverai un premio! Proviamo! Ha funzionato! Ottimo lavoro! Ora tocca a me! Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Credo che servano più punti! Nessuno potrà fermarci! Oh! Ce l'ha fatta! Ben fatto, Olaf! Wow! Ecco il nostro premio! Aprilo! Wow! Ma quante parrucche ci sono! Vuoi provarla? Che ne pensi? Non mi piace! Beh, no! Non è quello che mi serve! Che ne pensi? Splendida! Aspetta un attimo! Manca qualcosa! Sei pronta? Troom trick! Wow! Molto luminoso! Mi piace! Stai benissimo! Che ne pensato? Olaf! Nessuno ti riconoscerebbe! Torniamo alla lista! Troviamo un bel cappello per te! Ma dove? Oh! Ci sono nasconditi! Spero che non ci siano problemi! Dove andare anch'io? È così scivoloso! Oh! Eccoti qui! Dov'è finita quella ragazzina? Io non l'ho vista! Ti tengo d'occhio! A proposito! Guarda la mia nuova attrazione! C'è anche un premio! È proprio quello che ci serve! Ehi! Ma che cos'è? Devi colpire al centro e riceverai un premio! Sembra che non abbia scelta! Uh! È così pesante! Come faccio a sollevarlo? Uh! Ce l'ho fatta per un pelo! Ah! Spero di colpirlo! Prendi! Oh! Già lontano dal record! Tutto qui! Uh! Oh! La mia gamba! Ora basta! Troom trick! Ma ho ancora bisogno del cappello! Ce la farò! Questo martello non funziona! Che posso fare? Uh! Wow! Olaf! Fatti da parte! Caglia! Non sapevo che fosse così forte! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Sei fortissimo! Farei qualsiasi cosa per te, Elsa! Ehi! Non squattermi così! I miei muscoli! Non sono più parte di un iceberg! Penso che sarà felice! Elsa! Elsa! Oh! Che schifo! Quante ragnatele! E ciù! Non muoverti! Ti sta benissimo! E ciù! Ok! Questi li prendo io! Ho un'idea! E ciò che fai! Fantastico! Grazie, Pommy! Bene! Oh! Ora però sono stanca! Sei forte, ma... Fa un bel pochetto qui! Sto per scioglermi! Sto per sciogliermi! Oh! No! Questo no! Dov'è il telecomando? Oh! Oh! Non funziona! Ci sono! Bisogna ricaricare le batterie con i like! Ragazzi, aiutatemi a salvare Elsa! Abbiamo davvero bisogno dei vostri voti! Per favore, sbrigatevi! Solo voi potete aiutarci! Non fermatevi! Vi supplico! Solo un paio di like! È vero? Solo un po'! Vi prego, forza! Avanti, dai! Grazie! Ha funzionato! Piccola, stai bene? Sì, ma il mio vestito è tutto bagnato! Sembra che mi sia sciolta! Non preoccuparti, ci penso io! Bacchetta in soccorso! Troom trick! Wow! Fantastico! Questo sostituirà il vestito? No, ma sarà utile per farlo! Basteranno un paio di punti e il top sarà pronto! Quindi sai anche cucire! Figo! Indossalo! Ti starà benissimo! Grazie! Ora sembro una vera fashionista! Oh! Sta arrivando qualcuno! Nasconditi in fretta! No, non di nuovo! Ti copro le spalle! Oh, Bommy! Ciao! Oh, la mia scatola! Oh, l'ho salvata! Ma che c'è lì dentro? Se vuoi scoprirlo, dovrai giocare! Sono d'accordo! Bene! E ora mettici le mani! Ok! Quale dovrei scegliere? Iniziamo da questa! No! Un attimo! Hai scelto quella sbagliata! Questa è la migliore! Non devi suggerire! Wow! È una gonna! Smettila! Ecco qua! Oh! È disgustoso! Oh mio Dio! È vero! Non è divertente! Puoi dirmi che cos'è? Certo! Posso dirtelo! Elsa! Vieni fuori! Come faccio ad uscire da qui? Stai bene? Esci da lì! Non voglio più tornarci! Ehi, piccola! Immagino che questo sia per te! Oh, grazie! Mi ha aiutato molto! Sono così felice! Oh, che freddo! È come se fossimo al polo nord! E... Aspetta, ho un'idea! Un mantello ti starebbe bene! Ma non questo! Oh, ci sono! Dammi un secondo! Questo è meglio! Forte! Sì, ma come risolviamo il problema? Fammi pensare! Oh, ci sono! Wow! Se inserisci la parola giusta, tutto andrà bene! Proviamo! DJ Pommi è qui! Che melodia accattivante! Ballate tutti! Forte! Ballo anch'io! Facciamo un po' di rock! Pommi, sembra che tu abbia dimenticato quello che serve! Inserisci la parola! Ok, forse è... P-R-I-Z-E... Errore! Ho capito! E se fosse C-I-R-C-U-S? Wow! Guarda, c'è qualcosa qui! È una spillatrice! La proviamo? Sì! Prendi il tuo mantello! Grazie! Ora puoi indossarlo! Adesso sembri una supereroina! Sa come migliorarlo! Wow, incredibile! E questa sono io! Sei così bella! Non ce l'avrei mai fatta senza di voi! E ecco la mia Pommi! Allora, lei dov'è? Non lo so! Non l'ho proprio vista! Non è che mi stai mentendo? Lo scoprirò comunque! Ah ah! Adorabile! Ah ah! Pensavi di poterti nascondere da me? Cosa? Scarpe? Smettila di nasconderti! Oh! Ma chi è stato? Ah ah ah! Questa era una lezione per te! Non devi giocare con Elsa! Oh oh oh! Wow! Possiamo farci qualcosa con queste scarpe? Mettiamoci al lavoro! Un po' di schiuma renderà tutto più bello! Allora? Oh! Proprio nell'occhio! Ecco qua! Ora sei nei guai! Prendi questo! Troppo lento! Prendi questo! Abbiamo degli spazi vuoti! Ok! Colliamo le metà rosse e le metà blu! Fissiamole con la colla caldo e aggiungiamo un nastrino! Fantastico! E naturalmente le decorazioni! Sono così belle ora! Fantastico! Ma dove sono andati tutti? Sapete dove sono finiti? Ehi, Pommi! Oh! Sei tu! Guarda! Forza! Devi nasconderti in fretta! Ma che succede? Kaufmo! È alle mie spalle! Stai lontano da me! Ti prego! No! Questo non va bene! Devo salvare Pommi! Kawabanga! Ma che hai mangiato, Kaufmo? Che schifo! Troom trick! Ora va meglio! Mi piace! Oh, Pommi! Sei in forma! Grazie, amico! Oh, Ragata! Sei qui anche tu! Ehi! Hai visto Elsa? Aspetta un attimo! Troom trick! Sono qui! Grazie per avermi nascosta! Nessun problema! Elsa, ho una sorpresa! Le vuoi provare? Wow! Sono fantastiche! E ora andiamo! Siete pronte? Ciao, ragazze! Mi mancherai anche a me! Ehi, è ancora chiusa! Ma abbiamo fatto tutto! Che c'è che non va? Forse la serratura è rotta? Aspetta! Potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel look! Ma certo! Mancano gli scaldamuscoli! Ce ne siamo dimenticate! Ragazze! Nascondetevi! Allora, chi c'è qui? Ehi! Vieni qui! Fammi dare un'occhiata! Tu sei Elsa? No! Di che stai parlando? Ok! E allora lei dov'è? E a proposito! Dove sono i tuoi scaldamuscoli? Ci penso io! Troom trick! Molto meglio! Grazie! Bene! Ora puoi andare! Spero che stavolta funzioni! Ciao, cara! Ciao, Pammi! Mi mancherai! Wow! Ce l'abbiamo fatta! O dovremmo seguirla! Dobbiamo chiamare gli altri! Ragazzi, venite con noi! Proseguitemi tutti! Uh! Uh! Torniamo a casa! Facciamola insieme! Fate largo, perdenti! Io vado da sola! Addio! Aspetta! Aspetta! Oh no! Che incubo! Jax! Che è successo? Non lo so! Oh, guardate! C'è una regola! Solo gli elementali possono uscire! Wow! Questo deve essere il primo compito! Oh! Ho un'idea! Posso usarlo per il trucco! Vediamo un po'! Quanto tempo ho a disposizione? Un cilindro magico! Proviamo! Troom, trum, trick! Wow! Un tavolo! Ora possiamo iniziare! Grazie, cilindro! Dovrebbe funzionare! Prendiamo un po' di ombretto e occupiamoci degli occhi! Che ne dici? Non è adorabile! Oh, il tempo sta per scadere! Ma io sto per uscire! Viva! Grazie per i colori, Pammy! Ti piace il mio trucco? Come posso dirlo in modo delicato? Aha! Ecco le ragazze! Guardate il mio trum, trum, trick! Ta-dan! Walter Kane è pronto! Le porte mi lasceranno sicuramente passare! Hai visto che ora è? I ragazzi mi stanno distraendo! Qual è il prossimo compito? Una gonna! Va bene! Ma dove la trovo? Forse Kane può aiutarci! Ma certo! Voilà! Ehi, mi presti la tua giacca? Hai visto il tuo compito? Oh, un altro costume! D'accordo, ci penso io! Forse possiamo fare uno scambio? Oh, sai, potrebbe funzionare! Allora preparati! Troom, trum, trick! Sembra che tu non l'abbia incantato! Però mi piace! Ma non è così che l'avevo immaginato! Devo lavorarci un po'! Rimuoviamo ciò che non serve! Sembra che abbia funzionato! Uh! Gaffmo! Guarda che bellezza! Spero ci sia abbastanza tempo! Oh, sì! Ti piace il mio costume? Con questo vestito tutte le porte sono aperte per me! Stai tenendo il conto del tempo! Uh, ragata! Ciao a tutti! Vi piace il mio abbigliamento? Incredibile! Ma come ha fatto? Oh! Ah! Tutto a posto? Bene! Sei incredibile! Di sicuro ora potremo passare! Allora andrò io per primo! Apriti! No! Aspetta! Gaffmo! Sembra che non possiamo più salvarlo! Campane! Ok, qual è il prossimo passo? Acconciatura! Ok, non posso perdere tempo! Cosa? Ho sempre meno tempo! Devo sbrigarmi! Più in fretta! Forza, cilindro! Aiutami! Trum, trum, trick! Che c'è? Candele! Perfetto! Ho bisogno di aiuto! Ehi, ragata! Sì, Pommy! Posso aiutarti con l'acconciatura? Ne sarai felice! Penso che verrà fuori un'acconciatura fantastica! Non ti può avere? Sei sicura che funzionerà? Sì! Sembra un lampadario! Spero sia quello che volevi! Beh, non proprio! Aspetta, ora sarà di fuoco! Guarda! Sta bruciando in modo carino! Ti piace la mia acconciatura? Fuoco? Ehi, Kane! Wow, sei una donna torcia! Sì, e tu sai fare di meglio! Piano, trum, trick! Non avrei dovuto chiederlo! Non è ancora tutto! E ora guarda! Oh, wow! Adesso va molto meglio! Grazie! Oh, troppo luminosa! Non riesco a guardare! Sì, hai ragione! Oh! E il mio bottone? Dove è andato? Torna indietro! Ragazzi, mi aiutate! Ho perso l'occhio! Che devo fare adesso? Non preoccuparti! Non è niente! Ehi! Prendiamo questo! E ora lo combineremo! Che figata! Mi hai salvata! Ancora un po'? Mh, niente male! Vuoi provare? Wow, grazie! Vi presento ragataria! Penso che mi stia bene! Che farei senza di voi? Hai intenzione di fare qualcos'altro? Oh, hai ragione! È troppo presto per rilassarsi! Spero che funzioni! Troom, trick! Oh, può essere interessante! Esattamente quello che mi serve! Iniziamo a tagliare! Eccellente! Bella fiamma! E ora decoriamo tutto con pagliate e pietre! Sembra bello! Serviranno anche dei nastri! Troom, trick! Pronti! Wow, sei splendida! Grazie! Guarda, c'è Kane! Perché non hai cambiato nulla? Le porte non ti lasciano passare così! Penso che tu abbia ragione! Vediamo che posso fare! Va bene, ho capito! Iniziamo! Non ho mai visto Kane senza il cappello! E tu? Oh, cool! E ora prepariamoci! Troom, trum, trick! Che c'è che non va? Troom, trum, trick! Ci è rotto cosa? Oh, non ha la carica! Davvero? Andrà tutto bene! Dammelo! Troom, trick! Oh, wow! Wow! Ragata! È un capolavoro! Sono d'accordo! Fatto! E non dimenticare il bastone! Ma come è successo? Non lo so! Questo no! Spero che Kane non sia arrabbiato! Non abbiamo più tempo! Dobbiamo sbrigarci, Ragata! Guarda! Non preoccuparti, ce la faremo! Seguitemi! Dovrebbe aprirsi! Uh! Che c'è che non va? Non è abbastanza? Ragata, aspetta! Ragazzi, per favore, aiutateci! Mettete un like a questo video, così potremo scappare dalla trappola! Per favore, non lasciarci sparire e darci un mi piace! Ha funzionato! Grazie mille! Siete fantastici! Davvero, grazie per averci salvate! E ora dove lo trovo? Un nuovo bastone! Oh, ci è mancato poco! Siete ancora qui! Uh! E adesso che c'è? Anche l'elementale dice che abbiamo bisogno di un nuovo bastone! Facciamolo! Ora assisterete a un miracolo! L'incredibile Kane creerà un nuovo bastone! Applausi, signore e signori, perché questo diventerà un vero bastone! Cominciamo! Troom trick! Niente male! Ma non dimenticate che deve essere dell'elemento dell'acqua! Ci servirà una sfera! Un po' di magia e il gioco è fatto! Ora colleghiamo le parti! Non è meraviglioso? Già lo adoro! Troom trick! Ora è un bastone d'acqua magico! Sono davvero incredibile! Chi dubita del mio talento magico? È davvero un capolavoro! Sembra perfetto! Non vedo l'ora di provarlo! Oh no! Questo no! Oh! Wow! Grazie! Sul serio? Ok! È proprio quello che volevo! Sei pavolosa, Ragata! Ti piace! È tutto merito di Kane! Anche a me non dispiacerebbe un upgrade! Beh, non ringraziarmi! Aspetta un attimo! È il tempo! E adesso che facciamo? Ne è rimasto così poco! Hai ragione! Come facciamo? Ho un'idea! Posso prenderla in prestito solo per un minuto? Ups! Che stai facendo? Cos'è, Ragata? Non voglio metterla! Non sai che ti perdi! Sarà fantastica! Sì, intelligente funzionerà! Sì, esattamente quello che serve! Ehi, Pommy! Preso! Ups! Che ne dici adesso? Fammi dare un'occhiata, grazie! Vediamo se mi sta! Ti sta molto bene! Oh, la mia testa! Ehi, Pommy! Stai benissimo! Kane, guarda! Oh, i miei pantaloni! Biancheria intima divertente! Sei esilarante! Oh, no! Aspetta! Non c'è più tempo! Ragazzi, mi aiutate! Scrivete un promemoria quando manca un minuto! Ve ne sarò molto grata! Ehi, Kane! Se n'è appena andato? Hai bisogno di aiuto? Puoi togliermelo? Certo! Sembra che si sia bloccato! Sono pronta! Tira forte! Oh, faccio tutto quello che posso! Uh! Ha funzionato! Oh, fantastico! Ti servono? No, puoi tenerli! Fantastico! Grazie! Uh! Sì, è un po' strana! Oh, adesso è distratto! È il momento di prendere il bastone! Uh! È incollato qualcosa del genere! Problemi? Non si prendono le cose degli altri senza permesso! Non puoi! No, no! Hai capito male! Volevo solo nove mani! Per favore! Beh, come vuoi! Troom trick! Wow! Grazie, Kane! Ne sono bellissime! E si adattano al mio look! Quando vuoi! Ora devo andare! È fantastico! Pommi, è difficile riconoscerti! Che ne dici dei guanti? Wow, belli! E io ho queste nuove maniche! Semplicemente fantastiche! Aspetta! Hai ancora le scarpe vecchie! Quelle devono essere sistemate! Guarda! Sì, hai ragione! Via i vecchi stivali! Hai visto che ore sono? Dobbiamo sbrigarci! Ehi, aspetta! Non riesco a tenere il passo! Cammina sui carboni ardenti! Gli stivali infuocati sono garantiti! Allora? No, non posso! Non ho firmato per questo! Ehi! Avanti! Vuoi o no le scarpe? Va bene, ci proverò! Oh! Forse non dovrei! Puoi farcela! Oh! Sono caldi! Oh! Ha funzionato! Troom Troom Trick! Perfetto! Continiamo! Wow! Questo è un vero e proprio restyling! Ora sono fatta di vero fuoco! Wow! Pommi, è incredibile! Ora tocca a me! Aspetta! Sei aria, non fuoco! Non puoi andare lì! Stai bene come sei! Che succede, signore? Ehi! Non potete accendere un fuoco così! Troom Troom Trick! Wow! Bravo! Siete pronte? Sì! Tutto tranne questo non c'è più tempo! E adesso che facciamo? Iniziamo da Ragata! Me ne vado! Auguratemi buona fortuna! Ci vediamo! Non posso guardare! Ha funzionato! Non posso crederci! Io sono il prossimo! Prima le signore! Solo dopo di me! Kane! Non abbiamo più tempo! Fammi passare! Ehi! Che c'è? Ce lo siamo persi! Come è possibile? Guarda un altro! Abbiamo la possibilità di uscire! Ma l'uscita è diversa! E c'è anche una specie di setto! È il mio! Non si apre! Adesso ci sono regole anche qui! Gli Elemental non passano! Capito! Penso di sì! Fantastico! Allora me ne vado! Dove stai andando? Forfante! Oh! Forse possiamo usare qualcosa! Spero che ci sia qualcosa di utile! Wow! Una sirena! Beh! Ciao Amber! Se vuoi passare! Io passo aiutarti! Ma io non sono una sirena! Non funzionerà! Ehi! Fidati di me! Andrà tutto bene! Apri! Allora! Andiamo! Ok! Che figata! Ok! Penso che questi ti serviranno! Set da futura sirena! È così bello! Diventerà la migliore sirena! Non così in fretta! Devi prima completare alcuni passaggi! E solo dopo diventerai una sirena! Troom trick! Cominciamo dal trucco! Siediti! Cos'è? Ora lo vedrai! Aggiungiamo del ghiaccio e dei glitter di diversi colori! Il blu e il verde andranno benone! Fantastico! Prepariamo le armi! Uhuh! Mi stai spaventando! Ti prego! Non farlo! Non sparare! Ehi! Non muoverti! Avanti! Oh! La mia faccia! Dovrei dare un'occhiata! Il mio fuoco! Ehi! Leva questo affare da me! Ma questo è solo l'inizio! Troom trick! Iniziamo! Cosa? Per favore non farlo! Oh! Wow! Niente male! Mi piace! Anche a me! Primo punto completato! Ottimo lavoro tesoro! Sono bellissima! Ma dobbiamo lavorare un po' sui capelli! Che ne dici di un panino caldo? Cosa? L'hai bruciato! Ops! Non l'ho fatto apposta! Sbarazziamocene! Ok! E ora seguimi! Arrivo! Scegli! Ci sono parrucche per ogni gusto e preferenza! Questa ti piacerà! Provala! Vediamo! Oh! Si sta sciogliendo! Toglimela in fretta! Non ha funzionato! Allora piano B! Perché sono così sfortunata? Sarai una sirena cowboy! Esistono? Piccola! Toglimelo! Che c'è che non va in me? Rilassati Amber! Non preoccuparti! Sei nelle mani di una vera maestra! Spazzoliamo questa criniera! Che male! Wow! Non riesco ad arrivare ai suoi capelli! Ehi! Mi devi una spazzola nuova! Abbiamo bisogno di misure più urgenti! Metterà un freno a tutto questo! Incredibile! Ce l'hai fatta! Fantastico! Molto meglio! Ci stiamo avvicinando all'obiettivo! Bene! 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 Questa Amber non riesce a calmarsi! E tu? Mio caro! Abituati a vivere con la tua Ursula! Ora staremo insieme per sempre! Non vedo l'ora che arrivi il giorno del matrimonio! Sarò una sposa meravigliosa! Wade! Proviamo! Sei pazzo? Fammi uscire! Tesoro! Stai benissimo! Oh! Che schifo! Smettila! È così timido! Ma ci penserò io! A noi! Ehi! Non c'è nessun noi! Oh cielo! No! Oh davvero? Ok! Ti insegnerò a diventare più gentile! Vedrai! Non esiste! Sembra acqua! Ma è così irascibile! Mi piacciono i ragazzi che hanno carattere! Ne vuoi un po'? Mettila via! Non ha fame! No no no! Abbiamo così tante cose da fare! Ciao Ursula! Sì certo! Sono già lì! Stanno arrivando! Ok! Iniziamo l'operazione di puntura della medusa! Sono in punizione! Piccola! Vai! E adesso che c'è? Forse un vestito o la pinna? Oh no! Ember! Aiuto! Ma che è successo? Stai lontano da me! Conosco il karate! Non funzionerà! Dov'ho nascondermi! Aha! Aha! Ok! Credo di aver trovato un punto cieco! Fantastico! Ora giochiamo! Oh! È meglio che tu stia attenta! Ecco quello che succede quando te la prendi con le mie amiche! Oh! È esilarante! E ora aggiungiamo un nuovo bersaglio! Uh-huh! Forza! Diamo un'occhiata alle tue capacità! Uh-huh! Oh! Occhio al bersaglio! Ciao ciao! Ce l'ha fatta! Cos'è? Penso che mi tornerà utile! Fantastico! Ho un'idea! Speriamo funzioni! Volevo solo fare un top da sirena! Tagliamo il tessuto per ottenere le squame! Ci servirà un po' di colla! Aggiungiamo qualche dettaglio! Pronti! Ma voglio che sia lucido! Questo sistemerà tutto! Incogliamo le insieme! Veramente fantastiche! Queste squame sono così belle! Userò anche gli avanzi! Wow! Sarà molto elegante! Fantastico! È ora di provare un look da mare! Stupendo! E c'è anche un braccialetto! Davvero fantastico! Ehi! Ridammi tutto quello che hai preso! Puoi sognartelo! Se mi sconfiggi ti darò una coda! A fare patto! Vai! Nessuno mi ha mai battuto a questo gioco! Preparati a perdere! Avanti! Oh! Ah! Te l'avevo detto! Ho perso! Ehi, Amber! Mettimi come portiera! Grazie, tesoro! Questo non ti aiuterà! Wow! Prendi questo! Sì! Ora sei nei guai! Campo di fuoco! Fermati! Non vedo nulla! Non può essere! Ho vinto! Dov'è il mio premio? Ok, hai vinto! Ma non è giusto! Ed è anche della mia taglia! Oh, ok! Possiamo aggiornare la mia lista! Abbiamo la coda! Ora ci serve solo una forcina! Oh, questo mi starà bene! Tutte le ribelli finiscono qui! E voi, Wade, non fate eccezione! Non vedrete mai più la libertà! Che sciocchezze! Sta parlando con dei vasi! Cosa? Pensi che sia divertente? Aspetta un attimo! Ho finito la trasformazione! Oh no! Devo fermarla! Venite a me! Sì, padrona! Eccoci! Voi due occupatevi di quella ember! Sì, signora! Sconti bollenti! Oh, è proprio quello che volevo! Uhuh! Beccata! Non potrai sfuggire alla trappola di Octo! Ah! Eh, eccoci qua! Cosa? Ma questo da dove viene? Ehi tu! Difenditi! Ma tu chi sei? Di cosa hai bisogno? Sono Octo! La tempesta dei mari! Preparati a perdere, Amber! Cerca di schiovare questo! Uh! Che incubo! Sono in trappola! Cosa! E adesso che faccio? Oh no! Il muro è quasi distrutto! Ci sono! Ragazzi, per favore aiutatemi! Ho bisogno dei vostri voti per riparare il muro! Vi imploro! Uh! Uh! Ha funzionato! Grazie mille! E ora tocca a me! Ho finito le munizioni! Me lo presti un attimo? Cosa? Oh no! Non ti perdonerò mai! Beh, peccato, signor Otto Zampe! Hai bisogno di questo, vero? So che ne hai bisogno! Oh no, Wade! Ti salverò io! Ops! Questo no! Andiamo! Oh, spero di non essere in ritardo! Eccoti qui! Hai affrontato Otto, ma non sconfiggerai me! Braccio di ferro è il mio elemento! Non dirai sul serio, vero? E si alzassimo la posta in gioco? Che ne dici di una forcina? Oh no, no! Hai detto forcina? Beh, allora ci sto! Forza, granchietto! Te distruggerò! Wow, sei forte! Ma non mi arrenderò! Ha ora di penerla! Oh, non potrai vincere! Ora sono furiosa! Ho vinto! Non può essere! Salutami, Otto! Ed ecco il mio premio! Oh, Wade! Aspettate un attimo, non è lui! Mi hanno ingannata! Beh, almeno questa forcina è vera! Vediamo! Mi sta bene, è figa! Amber! Potrebbe servirti questo! Non riuscirai a sconfiggere Ursula senza un tridente! Prendilo! Wow, forte! Quasi dimenticavo! L'ultimo passo! Oh, ce l'ho quasi fatta! Ora ho l'intero set! Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sirena! Ok, ragazze! Quando avrete finito non voglio vedere neanche una singola pietra in piedi! Oh, Amber non mi ostacolerà più! Controlliamo! Che strano! Pronto? Da quanto tempo non ci vediamo, Amber? Wade è qui! Ursula, lascialo stare! Oh, davvero? Allora fermami! Lo salverò io! Lasciami andare! Ma dov'è? Hai sentito? È qui! Occupiamoci di lei! Ma perché io? Tu hai una pistola! Come funziona questa pare? Ma è rotta! Oh! Ah, chi c'è qui? Svegliati, sorellina! Oh, che brutto momento! Ok, ci penso io! Vattene da qui o te ne pentirai! Room trick! Oh, è stato terribile! Cosa? Ops! Ciao, ciao! Ora va meglio! Un'altra vittoria per Amber! Ehi, ma che succede? Da dove viene questo fumo? Oh, tu! Ho bisogno di Wade! Se hai così tanto bisogno di lui, allora prendilo! Oh, non ce la fai! Smettila! Ne ho abbastanza! Wade, non sarà mai tuo! Room trick! Oh, il gattino ha liberato gli artigli! Allora ho una sorpresa per te! Room trick! Oh, sono di nuovo in piamme! Cosa? No! Finalmente sono tornata nel mio corpo, Amber! Grazie per avermi salvata! Wade, sono così felice di vederti! È impossibile! Non lo permetterò! Wade! Il mio cuore! Non ce la faccio! Smettila di soffrire! Ha funzionato davvero? Ottimo lavoro! Ora possiamo attaccarla! Oh, sì! Mondo crudele! Oh, fa caldo! Lasciami andare! Fa male! Aspetta, fermati! La mia faccia! Vi odio! Ne vuoi ancora? No! Wade, ha funzionato! Ora la finirò! Per favore, non farlo! Non siamo così malvagi! Dobbiamo perdonarla! Ma come? Dopo tutto quello che ci ha fatto! Ho paura! Allora, vattene da qui! Spero non ti sia fatto male! Quelle due sono due matte! È ora di riprendersi! Uh, acqua curativa! Questo dovrebbe aiutare! Grazie, mi sento meglio! Non devi frequentarla più! Oh, ti ha quasi estinto! Devi riscaldarti! E non osare avvicinarti di nuovo a lui! Scusa, mamma! Ricorda, non è un tuo amico! Non avvicinarti a lei! Ehi, come stai? Ciao! Scusa se ti ho bruciato! Volevo solo fare amicizia! Niente, potrà rovinare la nostra amicizia! Oh, siamo di nuovo qui! Battì il cinque! Ehi! Non c'è fuoco nei miei capelli! Ma che è successo? Figlio? Te l'avevo detto di stare lontano da mia figlia! Ehi, il mio bambino! Smettila di piangere! Noi ce ne andiamo! Allora, ma che devo fare con te? Oh, devo pensarci! Oh, bastoncini infuocati! Li adoro! Temetemi! Oh! Mi stai spaventando! Oh! Non funziona! Penso che questo ci aiuterà! Brucerai ancora di più! Ehi, mamma! Oh, andiamo! Le bolle di fuoco sono pronte! Ma dov'è finita la mia bambina? Oh, no! Wow, che carino! Uno, due! Fermati! Non giocare con il lanciafiamme! È molto pericoloso! Ho preparato delle bolle per te! Guarda, sono molto dense! Ciao, ragazzi! Non fatelo anche voi! Questo è... Un Troom Trick! Oh, è fuoco! Grande! E non è tutto! Ora abbiamo tutti i materiali giusti! Hai bisogno di aiuto? Grazie! Ritagliamo una striscia di pomeran! E ora tocca a te! Passiamo lungo il bordo con la pistola! Intelligente! E aggiungiamo la frangia infuocata! Bello, no? Oh, sì! Penso di potercela fare! Così! Wow, mi piace! E non dimenticare questo! Oh, oh! Ha funzionato! Oh, di nuovo i poteri del fuoco! Questo è il potere del karate delle sirene! Il flusso del mare profondo! Long time amala! Ancora! Wow, stai facendo progressi! Continua! Kaya! Chi sono questi? Acrobati perdenti? Come hai detto, vuoi fare karate? Ok, scusate, acrobati! Siamo dei veri combattenti! Non distrarti! Siamo combattenti di karate! Non ci disturbare! O metterò in pratica le mie tecniche su di te! Ehi, lascia stare il bambino! Oh, combattenti di karate! Perché siete così cattivi? Una tempesta sottomarina! Oh no, il mio acquario! Ho esagerato! Ehi, così mi bagnerò! Devo occuparmi di questa crepa! Oh no, è difficile respirare! Wow, il mio potere è tornato! Ti salverò, sensei! Troom trick! Devo scappare prima che arrivi la polizia! Per favore, ho bisogno di acqua! Oh, questo è un miracolo! Tutti questi allenamenti sono stati molto utili! Grazie, siete fantastici! Perché? Ne dubitavi, forse? Bene, bene, bene! Oh, si è un po' sciolto! Ehi, posso aiutarti? Puoi provare questo prodotto extra caldo? Oh, sembra delizioso! Serviti pure! Oh, ha una cottura media? Sì, è buono, non credi? Ok, allora lo proverò! Ops! Sei così divertente! Forse potresti usare un cucchiaio? Grazie! Non è così caldo ai bordi, giusto? Oh, sta di fumo! Allora che ne pensi? Oh, wow! Vuoi che parli con il cuoco? Sì, chiedigliene ancora! Oh, sei un buon gustaglio! Faremo del ramen con questo! Ora va meglio! Ecco qua! Ho cambiato ricetta, vuoi provare? Oh, mi piacerebbe! Proviamo! Oh, scusa! Che imbarazzo! Anch'io sono un po' imbarazzato! Vuoi assaggiarlo? Con grande piacere! Oh, avete degli sconti per questo? Sei in fila? Ok! Prendo anche la gelatina! Ce l'ho fatta per un pelo! Adoro i fumetti! Ma cosa abbiamo qui? Luci? Fantastiche! Prendo anche queste! Oh, fermati! È una festa, allora! Per favore, smettila! Oh, basta così! Battene da qui! Oh! Oh no! L'ho bruciata! E adesso che faccio? Ci penso io! Ehi, signora! Questo dovrebbe aiutarla! Chiuda gli occhi! Oh, la mia faccia non brucia più! Lei è un mago! Grazie! È anche molto carino! Allora, che ne dici di un'altra porzione? Wow! Io so fare le cose più belle! E tu? Io so fare il fuoco! Guarda! Troom trick! Oh no! Abbiamo un problema! Quale? Oh no! Dobbiamo andarcene in fretta! Ma come faremo? Andiamo! Ti farò uscire da qui! In fretta! È proprio dietro di noi! Oh! Ci sta recuperando! Salvami! Tieni duro! Abbiamo quasi fatto! Ragazzi, per favore, mettete un like a questo video! Così potremo sfuggire a quell'onda! Wow! Oh, grazie! Uh-huh! Sembra che abbiamo un problema! Questa è la fine! Ci salverò! Tieni duro! Te l'avevo detto! Come attiveremo? Pensavo lo sapessi! Prun trick! Ce l'abbiamo fatta per un pelo! Meno male! Oh, siamo felici di vedervi! Ciao a tutti! Che ne dite di un drink? Grazie! Ok! La festa è fantastica! Grazie ancora! Ora devo andare! Ecco, prenda il suo cocktail! Può tenerlo per me! Oh! Non quello! Ok! Forse lo vuoi anche tu? No! Non ho preso il costume da bagno! Puoi cavalcare con questo! L'acqua non ti raggiungerà! Ok! Sono certo che ti piacerà! Oh no! Sto per cadere! Oh! Non sto a nuotare! Cosa? Perché non me l'hai detto? Fuoco! Forza! Aiuto! Salvatela! Bruceremo tutti! Oh no! È stato risucchiato! Oh! Ce l'ha fatta! Perché stai urlando? Oh! È imbarazzante! Il nostro amico lo rivolgiamo come era! Ok! Ci pensiamo noi! Troom trick! Wow! Per un attimo ho pensato che fosse la fine ed è tutta colpa tua! Non preoccuparti! Se è tutto a causa di un paio di bicchiari rotti, allora sistemerò tutto! Fidatevi di me! Guardate e imparate! Troom trick! Che ne pensi? Sembra un cristallo! Wow! Che bel trucchetto! Hai visto? Fantastico! È incredibile! Puoi farne un altro paio? Wow! È veramente incredibile! Ci vediamo! Ehi! Ridammelo! Ma che è successo? Ridammelo tu! È mio! Uhuh! Adoro questo tipo di shopping! Oh! Che cattiva! Prendi questo! Il mio fuoco! Sembra che qualcuno si stia bruciando! Non parle del male! Ora accenderemo un vero fuoco! Grazie! È proprio quello che mi serviva! Sarai la mia legna da ardere, ladruncolo! Ok, ok! Ora smettila ai miei capelli! Aiuto! Uhuh! Sembra che ci sia un problema con il negozio! Oh no! Non possiamo scappare proprio ora! Fidatevi di me! Ecco la marea dell'oceano! Grazie! Ci hai salvati! Avanti! Cos'è che volevi dire? Non essere così cattiva! Sono vostri questi soldi! Ecco, prendeteli! Grazie! Certo perché ho spento il fuoco! Certo perché sei un eroe! Vuoi unirti a noi? Lavoro da solo, ma grazie per l'offerta! Ti aspettiamo! Questo non è tuo! Dallo a quel signore! Oh! Addio! Ah, figliolo! Credo che questo possa tornarti utile! Ma cosa posso farci? La tua cintura ha bisogno di essere aggiornata, quindi preparati! Ritagliamo degli anelli! Ora li incolleremo lungo la cintura! Prendi la pistola! È già calda! Grazie figliolo! Ora va molto meglio! Ti piace questa cintura? Provala! Oh! È proprio della misura giusta! Ora sono il più figo! Proprio così! Aspetta! È qui tutta sola! Che bellezza! Non avrei mai pensato potesse essere così bella! Oh! Quindi ama l'acqua! Chissà se le piacerà anche questo! Oh! È strano! Wow! E non è tutto! Voglio mostrarti qualcos'altro! Sei davvero incredibile! È la cosa più bella che abbia mai visto! Come hai fatto? Ti fidi di me? Dammi solo un minuto! Posso chiederti di ballare? Certo! Era così tanto che lo sognavo! Non ci stiamo neanche sfiorando! Ma io riesco a sentirti! Wow! Credo che tu mi abbia fatto girare la testa! Oh! Grazie per questa danza d'amore! È reciproco! Penso sia ora di tornare indietro! Oh! Signora Pizia! Puoi dire se possiamo stare insieme? Ah! C'è solo un modo! La cartomanzia con le stelle pilanti! Ora lo scopriremo! Oh! Palla magica! Questi fortunatelli staranno insieme! Per favore le luci! Lasci che lo faccia io! Rumprick! Bene! Ora tu! Ma io sono fatto d'acqua! Però d'accordo ci proverò! Solo un secondo! Devo trovare l'angolo giusto! Con questo ragazzo ti troverai molto bene! Ce l'hai fatta! Le lezioni di fisica sono state molto utili! Oh sì! Vedo il vostro futuro felice! Hai sentito? Io non ne dubitavo affatto! Wow! Questi effetti speciali! Oh! Un po' spaventosi! Ma così affascinanti! Ma da dove viene tutta questa luce? Me ne occuperò io, cara! Ora nessuno ci disturberà! Oh! Guarda! Oh! Non è niente! Bambini, siamo a casa! Ciao, mamma! Aspetta! Perché sono insieme? Oh! Oh, questi bambini! Vi abbiamo portato una cosa! Oh! È bello! Anche a me piace! Finalmente ora è tutto a posto! E siamo di nuovo insieme! Oh! Credo che questo sia amore! Oh no! Tesoro, guarda! Forza, alzatevi! Non abbiamo paura dell'acqua! Prendi questo alluvione! Fa troppo caldo! Ma sta andando tutto bene! Continua! E voi? Non preoccuparti! Dobbiamo salvare il negozio! Oh! Room trick! Sembra che il negozio sia salvo! Ce l'abbiamo fatta! Oh no! I nostri ragazzi! Perché? Questo è così ingiusto! Mamma, nasconditi! Sta iniziando a piovere! Aspetta qui! Tesoro, ti bagnerai! Sono i nostri amici! Non possiamo lasciarli qui! È tutto così bagnato! Guarda, sta funzionando! Mamma! Wow! Room trick! Oh! Wow! Sono così felice che tu stia bene! Caro, sono così felice! E qualcuno deve andare a scuola! Dai, mamma! Non fare tardi! È il tuo primo giorno! Figlio, ti ricordi? Ti stanno aspettando alla stazione di polizia! Devi servire il paese! Sì, signore! Lo descriva! Ciao! Oh, eccoti qua! Allora, vuoi lavorare per noi? Sì, posso avere un'arma! Dopotutto sono un poliziatto ordinario! Prima ti daremo un uniforme! Oh, sembra fantastica! Oh, e non è tutto! Wow, grazie! La mia moto di servizio è molto meglio di una pistola! Pronto? Che è successo? Certo, sto arrivando! Oh, fine della connessione! A tutta velocità! Andiamo! Spiega tutto quello che vuoi in tribunale! Chi ha rovinato la festa? Lei! Portatela in prigione! È ora di andare in prigione, nerd! La festa per te è finita! Ma non è giusto! Fatemi uscire! Aspetta, ti richiamo! Ricordati che i nerd non sono fighi, ma le sirene regnano! Perché mi fai questo? Oh no! Anche lei non è stata invitata? Stai bene? Tu che ne pensi? Devo farti una foto! Ragazzi, ho un servizio fotografico! Non sorridere! Non avevo intenzione di farlo! Fantastico! Credo di avere un piano! Esattamente quello che mi serve! E ora preparo la mia coda da sirene! Pronta! Ho portato un treppiedi! Sei pronta? Certo, agente! Le sirene sono sempre pronte! Ti ho detto di non sorridere! Non c'è bisogno di urlare! Abbiamo delle regole! Che mostro! È disgustosa! E quest'acne? È così grande da spuntare persino fuori dalle foto! Ma grazie! Beh, almeno ora riuscirò a mettere questa foto nei fascicoli! Beh, grazie! Non flertare con me! Torna in cella! Ciao!